Babbo Ciao, sono Valerio Novar 5 Davide di Donatello, 6 nastri d'argento con questi premi alle spalle il Pinocchio di Matteo Garrone si prepara a conquistare anche l'Academy grazie alle due nomination agli Oscar per i migliori costumi di Massimo Cantini-Parrini e per il miglior trucco e acconciatura Marco Uliè, trucco prostetico Dalia Colli, truccatrice e Francesco Peguretti, acconciature Ma come è stato possibile rendere i personaggi di un classico come Pinocchio così verosimili senza usare gli effetti speciali? Andiamo con ordine Garrone ha scelto di rimanere fedeli alla storia di Pinocchio poiché nessuna delle precedenti versioni della fiabba rispecchiava completamente l'originale ma se questa devozione al realismo rende la pellicola poco emozionante dal punto di vista della cura dei dettagli è stata la scelta vincente ciò risulta evidente soprattutto nei costumi e nel trucco realizzati a mano pensate attraverso un sapiente e paziente lavoro di artigianato l'ispirazione nasce soprattutto dai disegni di Enrico Mazzanti primo illustratore della favola ma accanto a suggestioni provenienti dal fantasy e dai costumi d'epoca sono sempre presenti sfumature e dettagli che ricordano la difficile realtà in cui è ambientato il romanzo fatta di povertà e indigenza Pinocchio viene spesso rappresentato da un attore in carne e ossa che ricorda un burattino solamente per le movenze e il costume nella versione di Garrone invece il giovane protagonista Federico Jelapi si è sottoposto a 4 ore di trucco giornaliere per assomigliare il più possibile al burattino se si pensa alle due versioni italiane più note quella di Comencini e quella di Benigni ci si renderà conto della portata innovativa di questa scelta nello sceneggiato Rai del 1972 il protagonista ha quasi sempre le sembianze di un bambino vero che torna a essere di legno solamente quando si comporta male nel film del 2002 invece è lo stesso Benigni a interpretare il burattino il Pinocchio di Garrone quindi riporta sul suo volto ogni singola venatura del legno ogni più piccola imperfezione tipica di un lavoro manuale invecchiate o rovinate a seconda del momento del racconto esemplare in tal senso il modo in cui i capelli del burattino anch'essi dipinti vengono scoloriti nelle sequenze in cui il protagonista finisce in mare il costume nel rispetto del principio del realismo che guida questa trasposizione torna a essere semplice e troppo grande anche se curato nei minimi particolari anche la povertà di Geppetto interpretato da Benigni viene accentuata a partire dal suo abbigliamento frac in tela di lino pantaloni corti sotto il ginocchio gilet a righe trattati in modo da sembrare logori dimensi e sporchi abiti fuori tempo insomma rispetto all'ambientazione di fine ottocento del romanzo che rappresentano la tendenza del costume popolare toscano di rifarsi a stilemi tipici dell'epoca napoleonica il panciotto e il cappotto diverranno poi merce di scambio per poter comprare l'abbecedario a Pinocchio senza questi due indumenti a coprire il resto dei vecchi abiti Geppetto non perderà comunque la sua dignità e la sua essenza alla perenne ricerca di aspedienti onesti per mantenersi comunica attraverso i suoi abiti forse più di tutti gli altri personaggi ciò che è realmente il tutto accompagnato da un trucco e un'acconciatura che evidenziano il tempo trascorso a cercare Pinocchio per tutto il mondo la fata turchina è sicuramente il personaggio che ha subito maggiori modificazioni all'interno delle varie trasposizioni nella pellicola di Garrone appare sia bambina Alida Balda di Calabria sia adulta Martin Bacht nel creare il costume per la fata Cantini Parrini attinge alle sue conoscenze e alla sua passione per il costume d'epoca di cui è anche un fervido collezionista un abito che rispecchia il mondo fiabbesco ma che allo stesso tempo cala una creatura magica nella cruda realtà del romanzo realizzato con una semplice garza di cotone risulta ingrigito dal tempo e dall'usura dopo tutto la fata è una creatura millenaria che abita in una casa sperduta nel bosco vecchia e vissuta i cui proprietari sono tutti morti da tempo anche la capigliatura una cascata di boccoli argente risulta meno curata nella versione adulta a sancire l'ulteriore trascorrere degli anni è ornata da una ghirlanda di fiori secchi ispirata alle acconciature vittoriane la quale rappresenta al meglio il suo aspetto efebbico e ultraterreno badare alla casa e alla fatina ci pensa da sempre la lumaca Maria Piatimo personaggio secondario non sempre rappresentato diviene nella versione di Garroni una delle protagoniste i suoi abiti ricordano quelli di una vecchia bambinaia o cameriera indossa una veste da camera con coprispalle e cuffia ispirata al tipico abbigliamento da mattina delle signore di inizio ottocento non sarebbe Minocchio poi senza il grillo parlante interpretato da Davide Marotta e il gatto e la volpe occupa Paleo e Massimo Ceccherini anche nel loro caso i costumi rispecchiano tanto la loro personalità quanto il periodo storico della vicenda tutto comincia nel villaggio di Geppetto un paese povero e relegato ai margini della società e della storia in cui ognuno cerca di andare avanti come può gli abitanti hanno vestiti logori coperti dalla terra che lavorano o pieni disegni della vita trascorsa nell'indigenza e nello stesso modo vengono rappresentati anche gli abitanti dei paesi che Pinocchio poi visiterà nel corso del film il primo gruppo di comprimari che il protagonista incontra sono i burattini del teatro di Mangiafuoco interpretato dallo scomparso Gigi Proietti curati nei minimi dettagli sia per quanto riguarda il trucco che i costumi sono sicuramente i personaggi che rimangono maggiormente impressi dal punto di vista visivo anche loro rappresentano i particolari delle loro fattezze di legno sul viso e sul corpo nella ricerca di realismo di questa versione vengono rappresentati come le maschere tipiche della commedia dell'arte riprodotte con estrema attenzione alla tradizione fra tutti spiccano Colombina in un abito ricco di dettagli che ricorda quelli tipici del Settecento e il diavolo con un costume rosso che sembra composto dalle stesse fiamme dell'inferno ma non mancano poi i vari arlecchino, pulcinella, pantalone, gianduia e le guardie ognuno con un diverso trucco del volto Garrone insomma ci regala quindi una versione della favola non perfetta ma che può contare su un'estetica impeccabile un bellissimo affresco a volte statico e poco coinvolgente ma che riesce a prendere vita grazie soprattutto ai meravigliosi costumi appuntamento al 25 aprile per la cerimonia di premiazione degli Oscar seguitela con noi su Twitch iscrivendovi al nostro canale